questo programma è offerto da tu spacchi le pietre per essere ottimista, io spacco i culi Nico Camminati Milano, Radio 105 oggi è una giornata come le altre? no, perché oggi lo Zodi 105 da un'idea di Marco Mazzoli suonerà solo musica a Terrona tutte le canzoni di Leone di Lernia pensate che Paolo Noise ieri si è fatto operare alle orecchie facendosi togliere i timpani così da non dover subire quella musica ma comunque Paolo tu devi sempre tutto a Leone che ti ha lanciato Wender invece questa notte è stato messo in un angolo con una pistola puntata alla testa e obbligato a mixare le canzoni del vecchio chi era quello con la pistola in mano? beh, ovvio, Pippo Palmieri ma poi Pippo è stato minacciato a sua volta da un individuo losco con la testa piccola e il corpo enorme la minaccia era di dare fuoco alla zaffira se non obbligava Wender a mixare le canzoni pensate che cazzo di catena si è innescata e Fabio? sapendo che i suoi figli oggi avrebbero fatto ascoltare il papà alla radio ai suoi parenti di Sanremo Fabio ha pagato un signore che alle 14 andrà sulla parabola centrale che lancia le frequenze su Sanremo mettendo una puntata dello Zoo di 105 interamente registrata da Fabio dove parla di fiabe e di quanto sia bellissima la Liguria immaginate lo sbatti e il costo Luca Alba deve stare zitto invece perché sai in radio e grazie a Leone il suo mito vabbè, gli altri non contano un cazzo con Ivo Avido quindi, dai, su, che scherzo mamma mia, come siete diventati permalosi e allora io, secondo voi sono contento di presentare la puntata dello Zoo di oggi sapendo che suoneremo due ore di musica di Leone e di Lermia ma sono cinque canzoni no, non ce la faccio mi butto dalla finestra anche se abito al pian terreno io mi butto fanculo a tutti al pian terreno ti fai un cazzo no, no, aprila aprila minchia, che male non lo faccio più, dai minchia, che stupido che sono mi sono spucciato tutta la faccia il pezzo e le gambe e ora come faccio ad andare in spiaggia mamma mia ma perché suon canale ma perché non l'apre ma che cosa va a fare maestro, ma l'ha preso per il suo figlio il culo è scena ma che va a fare sta cosa è come un brivido che non puoi comprendere rompe le regole oltre ogni limite ma non ti molla mai non ti molla mai è troppo tardi ormai non ti molla mai non ti molla mai e fa parte di te io non sono un Pokémon non ti molla mai non ti molla mai lo Zoo di 105 il programma più ascoltato d'Italia